A cosa serve tapping? Tapping serve a rilasciare cioè togliere qualsiasi livello di stress del corpo che in realtà è la vera causa di tanto malessere come l'ansia, problemi di peso, infelicità, raff, tutto quello che noi sentiamo nel corpo che causa stress viene controllato con il tapping. Tapping serve dunque a togliere la sensazione dello stress dal nostro corpo e ci aiuta a rimanere calma per poter agire in modo equilibrato alle situazioni nelle quale ci troviamo causate da tutto ciò che succede intorno a noi.